I giovani che Hollande aveva promesso di trasformare in priorità politica tornano a rivelarsi una spina nel fianco del presidente francese. A otto giorni dalla precedente mobilitazione, liceali e studenti universitari tornano oggi in piazza contro la riforma della ministra El Comré, che ambisce a introdurre più flessibilità nel mercato del lavoro. Almeno 100.000 i giovani attesi a Parigi e in altre città dal principale sindacato organizzatore, mentre la seconda sigla giovanile si è dissociata ritenendosi soddisfatta dai correttivi annunciati lunedì. Nuove manifestazioni sono già previste per il 31 marzo.